Ho apprezzato molto la relazione del Presidente Granelli, credo che sia stata una relazione molto importante e l'attenzione alle piccole e medie imprese giustamente è stata richiesta come uno degli elementi essenziali. Per quanto ci riguarda siamo qui anche per ribadire la nostra volontà di dare risposte positive, così come ci sono nella legge di bilancio e quindi ho apprezzato molto l'atteggiamento molto costruttivo del Presidente Granelli.